No, 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 no. Adesso prendiamo il microfono. Ecco, bentrovati. La diretta streaming è iniziata, quindi salutiamo anche chi ci ascolta, chissà da quale parte del mondo. Benvenuti, bentrovati. Oggi iniziamo questo omaggio alla terra di Chopin, quindi alla Polonia, con la presentazione di un libro che ci tocca molto da vicino. Le foto che potete vedere qui alle mie spalle che stanno scorrendo sono un documento straordinario che ci narra della presenza dei militari polacchi proprio qui a Potenza Picena. Ma io non voglio attardarmi più di tanto e do la parola ad Antonella Roncarolo che è l'autrice del libro che tra poco vedremo presentato e al carissimo amico George Ternoschi che è stato, diciamo, se vogliamo, l'autore, il coautore, diciamo, di questa giornata così particolare. E quindi non mi resta che lasciare la parola a loro e a voi il piacere di ascoltarli. Buon ascolto. Buonasera, buonasera a tutti. Rubo un attimo la scena alla signora Antonella. Giusto per dire due parole, intanto grazie della vostra partecipazione. Dico due parole proprio per contestualizzare il romanzo storico che Antonella ha scritto con grande maestria, con puntualizzazioni sulla storia molto interessante e preciso. Allora, due minuti, giusto per contestualizzare appunto il racconto di cui Antonella andrà dopo a narrare. Primo settembre 1939, la Germania va della Polonia e il 3 settembre 1939, Gran Bretagna e la Francia dichiarano guerra alla Germania. Mi sentite laggiù? Mi sentite? Ok, scusate. La città fortezza di Brest, allora in Polonia, oggi in Bielorussia, resistette agli assalti tedeschi per quattro giorni e cade il 17 settembre. Lo stesso giorno che l'armata rossa invasi la Polonia dall'est come accordo russo-tedesco del 23 agosto 1939 per dividersi la Polonia, che è un accordo già preso da Ribbentrop e Molotov. Il 22 settembre l'armata rossa prende il processo di Brest, che infatti è un bel occupato dai tedeschi, mentre i tedeschi si ritirano indietro oltre il fiume Bog, lasciando i prigionieri polacchi in mano ai russi, tra cui il comandante polacco della fortezza di Brest, il generale Konstantin Brzovski, che fu fucilato tempo dopo, insieme a circa 12-15 mila tra ufficiali e civili nella famigerata foresta di Katyin dai soldati russi, mentre migliaia di altri civili e soldati semplici furono mandati in Siberia. Alla fine di settembre 1939, concluso il conflitto russo-polacco, chi riuscì tra le truppe polacche fuggirono in Francia per continuare la guerra fino alla caduta della stessa, poi continuare a combattere a fianco della Gran Bretagna, formando il primo corpo d'armata polacca. Altri migliaia di spottonati furono invece rastrellati dai russi e inviati nei gulag in Siberia. I soldati prigionieri in Siberia nel 1941 furono liberati e inviati insieme a molti civili sopravvissuti e con mezzo di fortuna raggiunsero il Medio Oriente, o l'Iran e l'Iraq, dove sotto la guida dei britannici, dopo due anni, si formò il secondo corpo d'armata polacca, a comando del carismatico generale Anders. Il secondo corpo d'armata polacca spedito in Italia a cavallo tra la fine del 1943 e inizio del 1944 ha partecipato alla conquista del Monte Cassino e poi trasferito sulla costa Adriatica per combattere la liberazione delle città costiere fino a Bologna. Durante questo periodo le truppe polacche trovavano sì la morte, ma anche, seppure nella tragedia della guerra, sincera amicizia e fratellanza con la popolazione locale. E molti dei soldati polacchi trovavano anche l'amore. Le truppe polacche rimasero in Italia dopo la fine della guerra per circa 18 mesi, fino alla definitiva smobilizzazione che portò alla dispersione degli stessi in tutto il mondo. E qui arriviamo, diciamo, al racconto di Antonella. Ma prima di questo chiedevo se si poteva far partire gentilmente quel inserto video che dura 50 secondi, ecco qua. Questo è quando i tedeschi diede in consegna ai russi la città di Brest il 22 settembre perché gli accordi Ribbentrop-Molotov prevedeva che i tedeschi non dovevano superare il fiume Bog e Brest si trovava oltre questo fiume che era destinato ai russi. E in questa tragedia di Brest si inserisce la storia che adesso la signora Antonella viverà, diciamo, a disporre. Grazie e buon ascolto. Bene, grazie Giorgio e grazie a voi grazie a Mauro per l'ospitalità quando 22 anni fa uscì il mio primo libro la mia prima presentazione fu proprio Potenza Picena in quel bellissimo teatro e poi ho saputo che eri tu stesso a organizzare, era marzo era una storia era una raccolta di racconti di donne ed era l'8 marzo e quindi fu invitata qui a Potenza Picena quindi ritorno a casa e grazie poi ho scoperto l'altra volta scoprì un teatro bellissimo stavolta scopro questo magnifico luogo complimenti, grazie di avermi invitata che dire Giorgio vi ha letto la storia di quegli anni una storia poco conosciuta perché in effetti nei libri di storia la storia della Polonia non si racconta si racconta molto poco e voi immaginate uno scrittore una scrittrice oggi va di moda il maschile uno scrittore come me che deve trovare una scenografia per mettere la storia che vuole raccontare ora l'avete letto la città di Brest che oggi è in Bielorussia è un'antica città universitaria assomiglia un po' la nostra diciamo la nostra Bologna che viene invasa la mattina dai tedeschi dall'armada tedesca non potevano farlo negli accordi che c'erano stati solamente 15 giorni prima dovevano rimanere dovevano rimanere ad ovest del fiume Bug e il pomeriggio chiaramente arriva l'armata rossa e le ricaccia indietro i prigionieri i polacchi dell'esercito anticipiamo Brest essendo la città più ad est della Polonia invasa dai tedeschi è quella è l'unica che ha resistito a questa invasione bicidiale dei tedeschi con questi panzer no Iter voleva una guerra lampo quindi pensava in una settimana di di invadere tutta la Polonia quindi Brest resistette per per quattro giorni all'invasione nazista ma poi dovete cedere la mattina e il pomeriggio arrivò l'armata rossa per riprendersi la città di Brest i soldati polacchi e la popolazione polacca ebbe il destino che ha raccontato Giorgio quindi qualcuno molti furono fatti prigionieri e poi portati nei gulag nei gulag siberiani questa è la storia di Brest e evidentemente io volevo raccontare una storia d'amore una storia d'amore che parte proprio da queste immagini perché qui siamo a Potenza Picena io vivo in provincia della scuola di Picena vivo a Grottamare a San Betore Tronto in pratica e anche lì i polacchi hanno spezzato molti cuori negli ultimi due anni in cui sono stati dal 45 al 47 nel provincia tant'è che ci sono stati quasi più o meno quelli che ho contato quasi 200 matrimoni fra soldati polacchi e ragazze e ragazze del Piceno io volevo partire da queste storie perché sono storie bellissime storie veramente da di grandi amori anche di grandi passioni insomma erano anche ragazze che scappavano di casa l'abbiamo raccontato anche Giorgio mi ha detto che sua mamma è scappata di casa con il suo grande amore polacco e quindi volevo raccontare una di queste storie e chiaramente dovevo farla partire dalla Polonia e quale città che ha avuto una storia come quella di Brest poteva essere l'ideale no? perché appunto questo movimento questo movimento di truppe e il mio protagonista che si chiama Janusz che viene fatto prigioniero Janusz è sposato con questa bellissima ragazza polacca che si chiama Vida e e la guerra li divide non c'è niente da fare la guerra è capace di ha questa capacità di metterci davanti al nostro destino ogni scelta che viene fatta in guerra è una scelta che è per la vita poi perché scegliere di andare in un bivio a destra o a sinistra vuol dire poi la vita la morte il tuo futuro e quindi da Brest parte proprio questa storia d'amore fra questa coppia giovanissima lui è un ufficiale polacco lei è una giovane ragazza che ha un futuro che scusate ha un passato da orfana e con questo padre inesistente che lei mitizza che sia andato in Russia dietro la rivoluzione bolshevica e niente quindi le loro strade si dividono si divideranno poi diciamo per sempre perché poi si cercheranno e vedremo poi se alla fine del libro si troveranno non lo diciamo come va a finire così così lasciamo un po' di saspas in tutto questo Giorgio vi ha raccontato la storia del secondo corpo d'armata polacco che si è mosso quindi dalla pensate i soldati polacchi sono i polacchi liberati da Stalin su ordine su un ordine dare un ordine a Stalin non era facile su un accordo fatto con Churchill quindi hanno liberato i polacchi dai gulag tranne i 15.000 12.000 15.000 soldati ufficiali uccisi poi nelle fosse di Katin e pensate che dalla Siberia si sono mossi verso il sud della Russia poi in Iran in Iraq e immaginate come erano ridotti ci sono delle foto dei campi profughi di questi soldati malati di tutto perché poi noi siamo abituati scusate ogni tanto cambio argomento ma le cose sono tantissime noi pensiamo sempre alla Siberia come un luogo freddissimo giustamente dove le temperature raggiungono normalmente meno 40 gradi ma il grande problema della Siberia è l'estate perché l'estate questo ghiaccio si scioglie e con queste pozze d'acqua crescono insetti tutti i tipi la morte per malaria in Siberia è una morte normalissima durante l'estate per non parlare poi di petecchie e di altre bellissime cose che riescono a portarci gli insetti quindi molti morivano proprio per questo motivo quindi immaginate gente nutrita che fa tutti quei chilometri tant'è che il generale Anders di cui tu hai detto il carismatico generale Anders è veramente un grandissimo generale sia un grande generale dal punto di vista strategico ma anche dal punto di vista umano e poi racconteremo che poi nei due anni che è rimasto in Italia come si è comportato con i suoi soldati e chiede a Staline se si possono spostare verso sud per far stare almeno i soldati al caldo perché in Russia continuava con questi inverni freddissimi arrivano in Iran e poi in Iraq si curano è proprio un esodo immaginate un esodo biblico immaginate migliaia e migliaia di persone donne e bambini che si muovono dalla Siberia verso l'Iran e poi lì si imbarcheranno andranno a combattere in Libia poi arriveranno a Monte Cassino sbarcheranno in Puglia nella battaglia di Monte Cassino che è entrata tra le battaglie più più famose più note più cruente della seconda guerra mondiale e poi altre meno conosciute ma sono anch'esse cruente perché se andiamo chi conosce la storia ci sarà andato sicuramente Giorgio anch'io ma anche chi non c'è andato mi invito ad andare a Loreto c'è il cimitero polacco dove ci sono mille mille tombe quindi anche nella battaglia di Filottrano per liberare Ancona sono morte sono morti mille soldati polacchi e poi hanno continuato verso nord hanno liberato Bologna e anche lì c'è il cimitero polacco che si vede dall'autostrada prima di entrare a Bologna e anche lì ci sono un migliaio di morti quindi hanno pagato carissimo con numeri enormi di vita di vite per la nostra libertà per la loro la nostra libertà il famoso motto dei soldati polacchi e poi finita la guerra sono tornati verso sud e si sono stabiliti nelle marche in attesa di ritornare in Polonia perché il patto tra Churchill e Stalin era che poi i soldati polacchi sarebbero tornati in Polonia la storia ci racconta che poi la Polonia negli accordi è andata sotto il governo sotto il dominio sovietico e i polacchi qualcuno è tornato in Polonia ma pochi altri qualcuno è rimasto in Italia molti hanno seguito Anders e a Londra a Londra c'è una grandissima comunità polacca nel quartiere di Hiling c'è tra i paesi polacchi hanno ricostruito Londra ancora oggi se a Londra chiamo in idraulico è sicuramente polacco anche un moratorio di origine polacca perché proprio c'è la tradizione hanno ricostruito Londra e costruendosi anche i loro casi naturalmente oggi i polacchi sono integrati nella comunità londinese lo racconto infatti nel libro nella seconda generazione in cui poi la comunità polacca oggi è perfettamente integrata insomma poi Giorgio è vissuto è nato sei nato a Londra ci sono state anche storie di immigrazione dei polacchi in Argentina in Canada ricordiamoci che non tutti i paesi accettavano i polacchi perché voi immaginate questi uomini che non avevano nulla non avevano passaporto non avevano nulla avevano non avevano neanche le divise perché le divise erano le divise inglesi perché Stalin non voleva dare le divise e un esempio ce l'avete visto lì all'ingresso e ecco questa è la storia è la storia diciamo struggente della Polonia di cui io mi sono innamorata che non conoscevo perché a scuola non l'ho studiata le nuove generazioni di polacchi oggi c'è la seconda generazione di polacchi in Italia dopo la caduta nel muro moltissime moltissime soprattutto moltissime donne sono arrivate in Italia e anche loro non conoscevano questa storia non gli è stata raccontata quando nelle scuole sovietiche e quindi raccontare questa storia è importante proprio per far conoscere il l'eroismo e non so cos'altro Giorgio anche l'umanità dei polacchi a San Benedetto quando è uscito questo libro tutti hanno raccontato delle storie che hanno avuto con i polacchi perché poi i polacchi i soldati polacchi venivano ospitati nelle famiglie penso che qui da voi io ho ritrovato un documento in cui c'è proprio un tariffario quindi camera singola camera singola con pranzo camera doppia gli ufficiali andavano nelle ville a San Benedetto c'era una bellissima villa che poi è stata buttata giù per costruire un palazzo negli anni 70 poi questo si faceva penso anche qui da voi e San Villashoe che io racconto in questo in questo in questo romanzo dove il generale Anders stava insieme ai suoi ufficiali insieme alla sua seconda moglie Irina Anders che era una cantante e prima dicevo il grande generale il grande stratega è stato anche un diplomatico perché io ho letto che ho letto i suoi diari che poi ho regalato a Giorgio perché sono anche abbastanza introvabili e lui Anders parlava russo come molti dei polacchi dell'epoca e parlava perfettamente russo quindi era lui che andava a parlare con Stalin personalmente e racconta di questa lui lo descrive questa personalità incredibile noi siamo abituati anche nei film e nei libri alla figura di Hitler che è un uomo circondato al suo cerchio magico a tutti questi gerarchi nazisti invece Stalin era solo e racconta Anders che aveva una memoria eccezionale non scriveva nulla non voleva che si facessero verbali tant'è che Anders appena usciva dall'ufficio di Stalin era costretto a scrivere per ricordare i dati promesse che gli faceva Stalin quindi è stato un grandissimo diplomatico per essere un grande generale ma è stato anche un grandissimo uomo lui voleva che i suoi soldati polacchi trovassero un ambiente favorevole con la moglie la moglie organizzava delle bellissime feste a San Metto le ricordano tutti anche a Fermo per esempio ricordano questi concerti l'era una cantante dove i soldati polacchi poi ballavano con le ragazze locali e poi quello che è successo lo sappiamo e ci sono delle foto bellissime ho visto anche qui delle foto sulla spiaggia siamo da noi d'estate nell'ultima domenica di luglio c'è la festa della marina della madonna della marina e i soldati polacchi hanno sempre partecipato tutti e due gli anni sono delle foto bellissime con tutte le paranze con le vele al vento e con i soldati polacchi che sono che sono sulla spiaggia di Conomessa sulla spiaggia quindi c'è stato questo tentativo riuscito di integrazione dei suoi soldati in tutte le località delle marche ma già sulla zona del nord la conosco poco però insomma vedo che anche qui da voi c'è stata la stessa la stessa partecipazione ma non solo quando Anders decise di tornare a Londra di andare a vivere a Londra dove poi sarebbe morto dopo nel 1970 mi pare morto Anders e ci fu un accordo con De Gasperi che lui fece con il primo ministro italiano era De Gasperi proprio perché i soldati polacchi che lui lasciava in Italia fossero comunque controllati fossero comunque diciamo vivessero bene insomma avessero delle leggi seguiti avessero delle leggi che non che non si fossero è complicato a dire ecco che non che fossero considerati dei veri dei soldati dei soldati italiani ho scoperto tantissime cose cercando di così di fare ricerca esempio ho scoperto che le donne insomma magari me lo puoi confermare le donne che sposavano un soldato polacco poiché loro non avevano passaporto quindi erano apolidi nel nel sistema di famiglia che c'era all'epoca le donne anche loro perdevano la cittadinanza italiana quindi pensate il coraggio ho fatto l'anno scorso a marzo ho fatto una una serata proprio per le donne e diciamo anche il coraggio di queste ragazze italiane che hanno sposato questi soldati perdendo addirittura la cittadinanza italiana quindi anche loro erano delle diventavano delle apolidi e alla mia presentazione da San Benedetto c'era il dirigente dell'anagrafe di San Benedetto l'ex dirigente in pensione che ha preso la parola e ha detto che negli anni ottanta moltissime signore moltissime donne che avevano sposato un polacco andavano all'anagrafe e lì visto che non c'erano i computer ancora quindi si poteva insomma girare avevano poi lui gli dava la cittadinanza la residenza e la cittadinanza italiana questo per dire le problematiche che hanno avuto infatti un mio amico che il papà era polacco ha il passaporto italiano della mamma perché anche lei era andata all'anagrafe voi pensate a quanti problemi che si sono creati e che hanno poi risolti e oggi raccontiamo questa storia che è veramente una storia struggente quando si racconta la storia polacca io ogni volta mi commuovo quindi a volte mi ricapia di leggere questo libro che voi pensate ha compiuto due anni i libri in Italia oggi non in Italia vivono pochissimo hanno una vita massima di sei mesi e invece questo libro ha due anni anche grazie a Giorgio e alle comunità polacche che me l'hanno che hanno apprezzato sono stata a presentarlo anche a Cracovia all'Istituto Italiano di Cultura a Cracovia però insomma con il libro Viva due anni vuol dire che questa storia che questa storia è ancora viva e speriamo che lo sia ancora per molto ecco non dimenticare è fondamentale questo e raccontare la storia la storia in maniera oggettiva in maniera oggettiva in maniera storiografica a me sono passati tanti anni potremmo anche parlare delle problematiche che ci sono state nel dopoguerra possiamo parlare di tante cose poi magari se c'è qualcosa se Giorgio vuole aggiungere qualcosa Giorgio sa tante cose sa tantissime cose della storia polacca lui è veramente un cultore se ti avessi conosciuto prima avrei fatto molta meno fatica a scrivere questo libro ho imparato da te molte cose no veramente la ricerca è stata tanta sono stata anche a Londra a Musao Sikorsky se andate a Londra mi consiglio di andarlo a visitare ed è questa diciamo questo palazzetto molto bello davanti a Hyde Park dove c'era l'ambasciata della Polonia in esilio del governo polacco in esilio e quando poi la Polonia è diventata un stato a tutti gli effetti sotto il controllo sovietico l'hanno spostata l'ambasciata ed è nella zona di Mary Le Bon dove c'è l'ambasciata polacca e questo sono stati abili sono stati bravi i polacchi a Londra ed è diventato un museo un museo Sikorsky quindi comunque l'hanno acquisita perché non era facile io qui nel libro racconto che ad esempio il primo monumento Giorgio ha citato la strage di Katin la racconto anche io nel romanzo il primo monumento ai morti di Katin si parla da 12.000 15.000 morti uccisi dai sovietici tanto dopo adesso lo possiamo dire dopo Korbachev lo possiamo dire che prima non si poteva dire l'ha messo Korbachev quindi lo possiamo lo possiamo dire ecco lo possiamo dire dopo Korbachev voi pensate che gli accordi come funziona il mondo dopo la fine della seconda guerra mondiale chiaramente cominciarono degli accordi sia diplomatici ma soprattutto commerciali anche con la Russia e anche il governo inglese si trovava doveva stare attento a muoversi la Russia non ha mai ammesso la strage di Katin e quindi il monumento a Katin non riusciva a essere fatto e fu fatto alla fine degli anni 70 voi pensate 30 anni prima di costruire un monumento a una strage di polacchi gli Stalin fu veramente si dimostrò per quello che poi sarebbe stato con le purghe successive decise proprio di decapitare la testa la testa polacca furono uccisi a Katin i vertici dell'esercito quindi ufficiali colonnelli generali i vertici delle università i vertici scienziati i vertici amministrativi quindi gli alti burocrati di Polonia con il suo motto diceva la Polonia non esiste quindi la Polonia per me non esiste fu infatti divisa separata in due da quell'accordo terribile fra Ribbentow e Molotov solamente nell'agosto del 1939 quando poi Hitler nel primo settembre attaccò la Polonia ha detto inizio a quella che è stata la tragedia della seconda guerra mondiale del secolo che ci siamo lasciati alle spalle abbiamo detto tutto Giorgio? no no se permette non abbiamo detto tutto non perché non sa tutto ma perché nel racconto c'è molto molto di più perché l'ha semplificato anche pochettino perché gli intrecci dei rapporti che c'era fra le persone che girano intorno con la storia è incredibile però si vive si tocca si quasi tocca diciamo nel vivo le tragedie che passavano questi personaggi è veramente veramente struggente ed è diciamo fondamentale pure i passaggi storici che sono stati tutti molto molto accuratamente ricercati da Antonella io prima di delungarmi volevo dire che vorrei lasciare spazio alle domande per cui non so quanto tempo abbiamo ancora brevemente allora senza volervi annoiare troppo mia mamma come c'è nato Antonella io sono nato in Inghilterra però di mamma italiana di Ciberna e di papà polacco il secondo corpo si sposarono nel 46 allora mi racconta babbo non mi ha raccontato niente non so niente da parte sua mamma ogni tanto mi accennava le donne sposate mi raccontava furono per prima divise dalle donne diciamo che volevano andare io parlo di Inghilterra perché dopo c'è chi è andato in Argentina Australia Sud America mi riferisco perché l'esperienza di mia mamma è verso Inghilterra le donne sposate con i tuppi polacchi che dovevano andare in Inghilterra furono caricati su un treno diceva mamma lunghissimo e impiegarono tre giorni e due notti per arrivare in Inghilterra perché ci possiamo immaginare diciamo un tragitto attraverso la Germania perché l'Europa era ancora distrutta e arrivarono in Inghilterra e li portarono in Scozia prima li portarono in Scozia dove diciamo furono diciamo allestite nei ex campi delle truppe che allora diciamo si stavano preparando per l'invasione della Francia in Normandia nel 44 erano vuoti ormai allora le donne furono messi lì i mariti li raggiunsero tre mesi dopo per nave e allora mamma mi raccontava di che potete anche immaginare quello che trovassero in un campo dove era modesto ovviamente come se fossero come se fossero persone che dovute scappare del terremoto e messe diciamo nei container per un periodo di tempo dopo tanto tempo diciamo ovviamente si trovarono con aiuto diciamo dell'amministrazione e delle comunità polacche stesse a trovarsi a farsi una strada ma non era facile non era facile perché ovviamente ovviamente lei inglese non lo parlava neanche mio padre mio padre non parlava italiano e mamma non parlava polacco come potete immaginare era quasi tutto quasi tua madre era giovanissima Giorgio 18 anni pensate che coraggio 18 anni sì coraggio pensiamo alle nostre ragazze forse di oggi 18 anni di oggi pensate anche perché non tutti i familiari erano d'accordo molti dicevano ma dove vai con questo polacco non lo conosce però c'era una grossa grossa diciamo virtù che legava la comune polacco con quelle italiane quelle erano religioni erano cattolici ma cattolici ferventi e questo conquistò veramente l'animo e il cuore della popolazione di allora allora dicevano se sono cattolici sono persone bravi veramente questo ha legato moltissimo tra le comunità e beh questa era la vissitudine diciamo di mia mamma e mio padre potrei non carmi su altre cose ma mi limito su questo infatti io all'inizio prima di scrivere questo romanzo era mia intenzione scrivere proprio dei racconti di queste storie come quella che ha raccontato Giorgio ce ne sono veramente centinaia pensate da noi ci sono duecento matrimoni quindi immaginate quante storie ve le hai potuto raccontare invece poi alla fine è quella che ho raccontato qui perché io racconto anche delle storie d'amore marchigiane quindi le marche sono poi questo Janusz quando alla fine arriva in Italia anche lui si innamora loro erano due amici Janusz e Pietro e anche loro si innamorano di queste ragazze poi pensate anche raccontavo prima a Giorgio che quando uscì questo libro due anni fa uscì il primo di novembre questo proprio compie due anni adesso e la settimana successiva siamo rientrati in lockdown quindi teatri chiusi limitazioni non è stato il primo ma insomma lo ricordate tutti nel 2000 ottobre 2020 quello che è stato e la gioia poi quando è finito vi ricordate secondo siamo usciti dal lockdown eravamo impoveriti chiusi in casa poi a un certo punto ci hanno detto potete uscire ecco voi immaginate la gioia della fine della guerra quindi immaginate io immagino la mia città San Benedetto col mare con le palme e la guerra finisce quindi è una vita nuova che esce diciamo che tutto era favorevole poi all'amore e trovarsi questi bellissimi ragazzi perché poi ho visto delle foto di questi bellissimi ragazzi soldati a San Benedetto e quindi era tutto che insomma poi feste da ballo insomma si ricominciava si ricominciava a vivere e quindi quello che io invece ho raccontato in questo libro è tutto fiction cioè ho inventato tutto infatti ogni tanto qualcuno mi dice ma tua nonna è polacca perché come fai a conoscere così bene le storie l'ho proprio inventata perché poi volevo raccontare anche qualcosa di più profondo diceva lui si è raccontato superficialmente ma non voglio poi raccontarvi i particolari anche un problema ideologico perché voi immaginate vivere in quel momento storico cioè oggi noi lo sappiamo come è andata a finire la guerra e come è andata a finire l'Unione Sovietica lo sappiamo lo vediamo anche in questi giorni che sta facendo l'Unione Sovietica ma all'epoca non si sapeva molti polacchi erano favorevoli alla rivoluzione bolshevica stiamo in quegli anni lì infatti io poi comincio proprio all'inizio alla fine della prima guerra mondiale quindi molti credevano nella rivoluzione bolshevica e quindi molti credevano che il futuro sarebbe stato quello e quindi c'era anche questa problematica tant'è che tantissimi polacchi dall'Italia sono poi ritornati in Polonia qualcuno è stato io ho sentito qualcuno dice ma no i nostri parenti che erano rimasti là ci sconsigliavano di andare io dove andate qui facciamo la fame ma sai tu poi non ci credi pensi che loro hanno vinto la guerra andiamo non dimentichiamoci che l'Unione Sovietica vinse la seconda guerra mondiale Stalin stava nella famosa fotografia dei vincitori quindi molti tornarono molti hanno creduto a una Polonia sotto l'Unione Sovietica e quindi ha voluto raccontare anche questo anche questo dilemma terribile fra chi invece credeva nella libertà perché aveva combattuto per la libertà e chi invece credeva che la libertà fosse da quella parte lì famiglie separate l'abbiamo visto anche poi con il muro di Berlino famiglie separate proprio da ideologie ci sono anche moltissimi romanzi più importanti del mio che raccontano questa scissione questi drammi dovuti proprio a un'idea pensate la tua vita il tuo futuro distrutto distrutto da un'idea le stesse cose che stanno succedendo adesso in Ucraina ho conosciuto un mese fa una ragazza ucraina che vive a Firenze e ci raccontava di famiglie che sono distrutte dal fatto che magari il papà è filo sovietico e la mamma è filo ucraina quindi famiglie di separazione divorzi dovuti proprio a queste ideologie così forti quindi la guerra non uccide solo i corpi e le città ma uccide anche i sentimenti gli amori il futuro il futuro di queste persone questo è drammatico è voluto raccontare anche questa questa storia che mi sembrava molto 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 forte sconvolgente si potrebbe dire perché cioè non so quanto tempo ancora ho date il tempo a Giorgio dai tempo alle domande vado avanti ok allora voglio dire è difficile medisimarsi nei tempi di allora cioè la Polonia Polonia il 39 fu invasa dai tedeschi dopo sette giorni fu invasa dall'altra parte dai russi molti polacchi pensavano che i russi stavano entrando per salvarli dai tedeschi li chiamavano i nostri salvatori andavano incontro ai russi con pane e sale perché li consideravano salvatori invece si sono accorti troppo presto purtroppo che non erano salvatori affatto erano andati lì per eliminare la Polonia e i polacchi ecco tornando al massacro di Katrin perché l'idea di Stalin era di eliminare questo questo paese come questo laureati si tutta l'intelligenza l'intelligenza dovevano eliminarli dovevano eliminarli in modo che in modo che in futuro non ci sarebbero state delle contraddizioni la lingua polacchi era eliminato il cattolicesimo religione era abolito insomma dovevano anniclire un popolo intero e allora i polacchi si sono trovati traditi traditi prima si potrebbe dire avevano un patto di amicizia con la Francia e la Gran Britannia dove se fossero stati attaccati sarebbero andati loro al soccorso non sono andati allo soccorso la Gran Britannia è troppo distante la Francia ha fatto un tentativo ha occupato un 10 chilometri territorio russo teresco ma poi si sono ritirati dietro le linee a Maggiorno ha detto basta così c'è sufficiente sperando che la guerra non continuasse allora furono traditi in quel momento lì furono traditi dai russi e poi tradimenti continuarono anche durante ecco come diceva i rapporti di Sikorsky con Stalin Sikorsky con Churchill che Churchill prometteva ma poi non ha potuto mantenere le promesse e la dilusione la dilusione di questi generali che doveva spiegare ai suoi uomini che purtroppo hanno combattuto per la libertà ma la libertà loro non l'avrebbero mai avuto e la libertà invece l'hanno conquistato per gli altri e la dilusione è tremenda e la forza che generali aveva come persone carismatiche è stata quella di mantenere i soldati in ordine perché voi immaginate che questi per tre o quattro anni combattevano a fianco d'aliati credendo che poi avrebbe liberato Polonia lo credevano e general Anders come tutti gli ufficiali dovevano ovviamente assicurarli che questo sarebbe venuto e lui ha dovuto confessare verso la fine della guerra che non era più possibile e poteva scoppiare un pandemonio questa era gente armata questa è gente che hanno visto morire i fratelli i compagni con l'obiettivo di andare a liberare la Polonia e dopo si sono trovate a sentirsi dire no mi dispiace non è così per cui la forza di Anders è stata anche questo che è riuscito a mantenere i suoi soldati in ordine perché c'era questa grossa preoccupazione e poi furono tradite altre volte dai russi quando si sollevò Varsavia nell'agosto del 44 500 mila delle resistenze a Varsavia si sollevarono perché si sollevarono uno perché erano garantite diciamo degli armi da parte degli aliati facendole fare cadutare gli alimenti e due perché Stalin gli avrebbe assicurato che le truppe russe sarebbero entrate in Varsavia ad aiutarli c'era il fiume Vistola il fiume Vistola ormai i russi potevano superarlo quando volevano invece si sono fermati si sono fermati hanno fatto sì che la resistenza polacca verso Stavia si sollevasse e combattessero da soli contro i tedeschi e quasi per un mese riuscirono a tenere testa ma chiaro era una battaglia impossibile quando gli aliati chiedevano a Stalin di portare di far sì che ci fossero stati dei lanci diciamo di aiuti su Varsavia Stalin rifiutò Stalin rifiutò anche che gli aeroplani potessero andare ad atterrare sugli aeroporti russi perché non avevano allora abbastanza benzina per fare i voli di ritorno e quelli che lo fecero sudafricani polacchi inglesi erano voli suicidi perché sapevano che non sarebbero tornati e Stalin non solo rifiutò che si che si potesse avvelersi di gli aeroporti russi per rifucillarsi ma ordenò i suoi piloti di sparargli pure contro per cui scusami Giorgio quando si quando si legge la storia di Stalin veramente siamo di fronte a un genio del male io io quando ho letto i diari di Anders lui stesso era era come non affascinato affascinato non è la parola giusta aveva questa affascinazione di quest'uomo che riusciva a ragionare in maniera senza nessun tipo di umanità e noi lo vediamo oggi nella storia anche nella storia soltanto per io questo è stato partecipato a un incontro sull'Ucraina proprio adesso ormai sono diventata l'esperta l'esperta di questioni dell'est sull'Ucraina l'Ucraina ha avuto la stessa storia poi perché poi pensate che più di 10.000 ucraini durante il 38 quando Hitler invasse la Polonia più di 10.000 ucraini entrarono all'esercito tedesco perché Stalin li aveva affamati cioè in Ucraina ci sono storie di contadini che mangiano non è bello che mangiano i loro figli per forma di cannibalismo proprio per sopravvivere a una povertà assoluta e quindi poi ci rendiamo conto quando troviamo nell'esercito ucraino gente con le svastiche naziste tatuate di quello che è la storia dell'Ucraina ed ecco queste tensioni storiche che non si sono mai risolte forse perché non si conoscono forse perché ecco per questo bisogna parlarne e vedere dove si arriva provocando l'odio la figura di Stalin è una figura veramente inquietante e quando i polacchi ne parlano ecco questo Giorgio vi fa vedere come quello che hanno sofferto sotto questa poi dopo sono cominciate le purghe addirittura all'interno della Russia non dimentichiamoci che sono morti più russi che ebrei durante la seconda guerra mondiale cioè Stalin ha fatto morire anche i suoi soldati in queste battaglie senza nessun tipo di strategia niente quindi è veramente una storia da conoscere da conoscere e poi la storia finale forse la conosciamo la conosciamo un po' meglio quindi io mi sono immersa in questa storia non conoscendola sono partita assolutamente da zero ho letto tantissimo naturalmente e ho conosciuto tante persone e poi questa storia me l'hanno raccontata anche se la raccontavano poco voi pensate un attimo ai polacchi vivere in Italia dopo la seconda guerra mondiale negli anni 60 e 70 dove l'Italia aveva il più grande partito comunista d'Europa questo è stato è stato veramente lo stesso Togliatti spesse volte dovete intervenire perché c'era una sorta di rancore loro che si chiedevano ma come fate a votare il partito comunista quando chiaramente poi la storia è molto più complessa è molto però questa era ecco perché non parlavano ecco perché il papà di Giorgio non raccontava e non raccontava nessuno molti figli di polacchi che hanno letto il mio romanzo mi dicevano ma pensa quante cose papà poteva raccontarmi e non mi ha e non mi ha raccontato non parlavano avevano anche avevano anche paura ma la stessa cosa in Germania in Francia perché anche in Francia hanno avuto un un forte partito e che loro non riuscivano a capire proprio non diceva perché devono infatti io io ricordo quando ero più giovane naturalmente fu eletto al soglio pontificio papa Voitila papa Giovanni e io ricordo il suo forte anticomunismo che non riuscivo a capire perché ce l'ha così tanto con il partito con i comunisti tant'è poi da finanziare Solidarnosc oggi lo sappiamo ci sono anche documenti quindi il Vaticano finanziò Solidarnosc e la Polonia è stata la prima nazione diciamo nel sistema sovietico a staccarsi a staccarsi alla Russia proprio grazie al movimento di Solidarnosc o di Leca Valesa e proprio per questo quindi anche questo anticomunismo di questo papa polacco è stato dovuto proprio a questa storia che anche lui che anche lui ha vissuto poi nella storia di Voitila c'è anche ci sono anche morti nella sua famiglia durante la seconda guerra mondiale quindi è una storia talmente complessa anche su questo voglio spendere due parole poi spero che mi fate qualche domanda a Antonella sul libro immaginate i soldati polacchi che vengono in Italia per combattere contro i tedeschi per poi andare con la speranza di liberare Polonia arrivano in Italia fortemente anticomunisti e trovano in Italia a fianco a loro la resistenza 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 e non lo capivano non si rendevano conto non si rendevano conto come mai c'erano le bandiere rosse a fianco a loro in questo senso qua c'era la banda a Maiella che combattì con loro con loro fino a Bologna no? e liberarono Filotrano insieme con i corpi italiani di liberazione no? e non si rendevano conto tanto è vero che questa causa molti molti conflitti no? anche soprattutto a Bologna no? soprattutto a Bologna soprattutto a Bologna sì ma anche da noi anche da noi Bologna racconta io ho letto anche un intervento di Togliatti un intervento ufficiale sull'Unità di Togliatti che cercava di calmare gli animi perché se no la guerra sarebbe stata la pace sarebbe stata inutile se continuavano no? e quindi per cercare effettivamente loro non capivano come poteva esserci un partito comunista così forte così forte in Italia e non fu facile insomma per vivere in un paese anche se poi era un paese libero un paese che poi ha dato tanto anche ai polacchi in Italia poi sono tutti integrati si sono lavorato però certo dal punto di vista ideologico è stato sì dal punto di vista ideologico questa è la cosa peggiore che veramente ci può forviare da quelle che possono essere i nostri principi comunque nel romantico ci sono anche delle belle storie d'amore vero? ci sono delle scene c'è anche l'orso Wojtek che è stato anche portapotenza che è stato portapotenza non so se lo conoscete questo orso voi sapete che quasi tutti gli eserciti hanno la loro mascotte e questo orso non era l'orso bruno che abbiamo in Italia era un orso dell'est della zona dell'Iran e un bambino aveva questo orso piccolino cucciolotto gliel'hanno comprato gli hanno dato i soldi a questo bambino e questo orso Wojtek li ha seguiti li ha seguiti per tutta per tutta la loro la loro odissea quindi è stato in Libia poi se e sulle navi di guerra non potevano imbaccarsi animali e quindi l'orso Wojtek è stato è stato arruolato come soldato come soldato anche tanto di numero quindi il Wojtek era un soldato come gli altri sono tantissime foto con questo orso che mangiava le sigarette mangiava i filtri delle sigarette beveva la birra e durante il strano che non bevesse la vodka forse non c'era e la vodka polacca è buonissima io non la non la conoscevo quindi la la Polonia non è famosa solo per l'ambra io ogni volta che presento questo libro mi metto la mia ambra polacca ma anche per la vodka che è buonissima i polacchi dicono che è più buona di quella russa è vero è veramente molto buona e quindi Wojtek è stato era la loro mascotte ed è mi pare di aver letto che è l'animale che ha più monumenti in Europa ha tantissimi monumenti ha tantissimi monumenti anche a Londra c'è il monumento a Wojtek mi pare anche qui nelle Marche a Benafro a Benafro c'è il monumento moltissimi a San Meto c'è la scuola una scuola diciamo polacca che si chiama Wojtek insomma questo orso e a Monte Cassino veniva utilizzato per spostare per spostare alberi perché so che era un animale molto molto forte ci sono moltissime foto moltissime foto con lui ed è questo ci dovrebbe essere e io lo racconto che quando perché io racconto di un matrimonio a San Benedetto fra un polaco io non cito San Benedetto il mio è un paese delle Marche naturalmente e poi chiaramente San Benedetto chi ci vive lo conosce racconto di un matrimonio con la gente che aveva paura che arrivasse l'orso perché poi questo orso ogni tanto si presentava e quindi c'è questa scena di queste donne sanmedesi che hanno pure anche perché prima l'orso non l'aveva visto mai nessuna come adesso andiamo negli zoo a vederli quindi l'orso questi matrimoni io mi sono letta tutti i documenti dei matrimoni polacchi almeno nella provincia del Piceno c'erano anche ragazzi di 16 anni che sposavano che sposavano quei giovanissime c'era un sacerdote che si chiama padre Joseph un sacerdote polacco che era il seguito del secondo corpo d'armata che era tutti i matrimoni e Anders cercava di andare a tutti i matrimoni dei suoi soldati infatti quello che racconto io c'è Anders con Irina che arrivano per questo matrimonio di questo loro ufficiale che sposa una ragazza una ragazza della mia città una delle tante insomma quindi questa è un po' la storia quindi c'è la tragedia ma ci sono anche scene d'amore anche di pianti perché poi di amore si piange quindi ecco questo è un po' quello che racconto molto complesso bene forse vedo la cantante pronta mi pare la vedo nella nella se per chi volesse c'è qualche libro l'ho portato mi ha venuto di lasciarlo da che parte ma non so dovevo lasciarlo va bene ok va bene ok va bene ecco sì buonasera mi scuso perché sono arrivato proprio da poco quindi è probabile che la risposta alla mia domanda sia stata già già fatta insomma nel corso della presentazione io sono curioso di sapere se è possibile spendere una parola va bene a proposito del sogno di libertà dell'esercito polacco che è arrivato in Italia che sicuramente ha combattuto per la liberazione dell'Italia ma il sogno era quello poi di arrivare alla Polonia e avere finalmente la propria terra libera abbiamo visto almeno ho sentito le grandi responsabilità di Stalin e della Russia ma ne avete parlato delle responsabilità dell'Inghilterra e degli Stati Uniti sì quindi avete parlato quindi mi scuso ancora che non l'ho sentito grazie grazie a lei ma giustamente io ho fatto accenno ai tradimenti da parte anche di Churchill delle promesse che lui ha fatto alle truppe polacche che non ha mantenuto certamente cioè non c'è mai nero e bianco tutto chiaro e scuro cioè la storia diciamo c'è sempre real politica dove per motivi ideologici ma anche ma anche di convenienze di convenienze di paure infatti diciamo che la spinta che Anders ha dato ai suoi soldati era proprio quella cioè loro si sono mossi per quello era proprio questo sogno di libertà che ha infatti io poi riporto nel libro alla fine proprio la frase che è nel cimitero di Monte Cassino che mia nonna mi ripeteva è caduto? no no lascia che mia nonna mi ripeteva sempre che a me ancora ancora mi commuove noi soldati della Polonia abbiamo lasciato in Italia i corpi il cuore in Polonia quindi questo grande sogno di libertà che loro avevano e che è stato tra l'Italia non sappiamo quanto sia stato fatto razionalmente anzi è stato fatto razionalmente cioè alla fine gli accordi di Yalta sono stati quelli Stalin si è imposto sulla Polonia sappiamo che anche l'Italia ha avuto i suoi accordi noi la guerra l'avevamo persa non è che avevamo tanti diritti però insomma ci hanno dato l'Alto Adige ci hanno tolto l'Istria ad esempio quanti italiani sono avvissuti in Istria io ho una mia amica che è di Gorizia che lei ricorda piccolina con i genitori che avevano la valigia o di qua o di là dalla ferrovia se stare in Jugoslavia o se andare in Italia loro scelsero l'Italia ma ad esempio la mamma rimase invece in Jugoslavia anche qui una specie del mio libro lei per motivi ideologici preferì rimanere in Jugoslavia e lei bambina fu adottata da questa famiglia italiana anche noi abbiamo avuto le nostre scelte quando si fanno gli accordi di fine guerra non dimentichiamoci mai che l'Unione Sovietica è stata fra i vincitori sul tavolo dei vincitori quindi hanno avuto un grosso peso agli altri non sappiamo quanto Churchill abbia insistito poteva insistere aveva qualche asso da giocare possiamo dilungarci su questo però volevo dire due aneddoti su Churchill a Churchill gli ho chiesto che cosa resterà di lei nella storia che cosa ne penseranno di lei nella storia ha detto di me parleranno solo che bene perché l'ho scritto io perché l'ho scritto io ha scritto a lui la storia mi sa anche il nobile per la letteratura perché ne farà solo che bene e poi lui era contrario al tribunale in Nuremberg dove furono processati i testi ma per il motivo per lui semplice disse speriamo in eventualità di un'altra guerra che lo possiamo vincere se no processano noi se no processiamo anche noi per cui era ben consapevole diciamo dei bombardamenti di Dresda di Dresda e delle però no no stavo dicendo Dresda sì per cui voglio dire se vogliamo scavare sotto sotto le colpe ci sono anche da da quest'altra parte di quelle che ha scritto la storia sì sì sicuramente ultima domanda ultima domanda ultima domanda ci mancheremo in un minuto più che una domanda sono i complimenti conosco entrambi i relatori io sono Alvisia Mani del Centro Studici Vitanovesi ringrazio l'amico Giorgio di avermi invitato ringrazio Antonella perché noi ci vantiamo di aver presentato il libro di Antonella poco dopo l'uscita da noi ci vantiamo dicevo dal lockdown e con e con Giorgio invece stiamo facendo questo percorso in cui Antonella si inserisce col suo romanzo molto bello e che consiglio di prendere perché è veramente una panoramica una fresco ben documentato poi è stato tradotto anche in polacco mi sembra adesso quindi ormai lo conoscono in lingua anche in Polonia perché ecco è doveroso come recentemente ho anche detto a una manifestazione a Roma questa riconoscenza perché i soldati polacchi traditi e hanno dato la vita più della vita uno cosa può dare insomma hanno dato l'anima a Dio il cuore alla Polonia il corpo all'Italia però hanno combattuto anche quando avevano forse intravisto che la Polonia sarebbe rimasta lontana dai loro cuori quindi dobbiamo noi marchigiani noi italiani essere riconoscenti perché per troppi anni per motivi come accennava Giorgio di Realpolitik si è nascosto coscientemente la storia in Italia appunto col partito comunista più importante d'Europa e i polacchi sono stati cancellati quindi capisco la delusione di persone che avevano dato tutto e che non potrebbero neanche parlare perché non sarebbero stati creduti grazie a voi grazie 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 io vi ringrazio adesso vi lasciamo con un altro grande polacco che è Ferric Chopin oltre io sono io sono un chimico quindi io sono anche molto riconoscente a Marie Curie che è stata una grande polacca veramente anche una grandissima donna oltre che è stato un grande scienziato quindi alla Polonia dobbiamo molto andiamo di moda Marie Curie è stata veramente adesso il cognome polacco non lo so dire quindi Marie Curie non lo dico però è stata veramente una grandissima donna anche lei è una donna coraggiosissima perché andò da piccolina era una ragazzina dalla Polonia fino a Parigi dove poi sposò il suo professore questa è una storia che racconto sempre ai miei alunni perché è una storia importante anche questa quindi oltre alla vodka e la dama con l'ermellino che io non sapevo è a Cracovia la dama con l'ermellino di quindi appena magari i venti di guerra si un po' si attenueranno vi consiglio di andare a Cracovia che è una città che ho amato in maniera è una città stupenda e c'è anche la dama con l'ermellino che è stata acquistata da questi principi polacchi ed è a Cracovia ed è visitabile a Cracovia i nomi polacchi non li ho mai imparati a pronunciare sono impazzita neanche Giorgio quindi ed è l'eredità che ci avete lasciato questi nomi polacchi grazie a tutti grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi